L'Onorevole Fedriga ha chiesto la parola sul d'ordine dei lavori, gliela do per due minuti, Onorevole. Grazie, Presidente. Abbiamo discusso questo pomeriggio in Commissione Lavori ed è arrivata la relazione tecnica per quanto riguarda la proposta di legge sugli esodati. A riguardo, e mi ricollego alla questione proprio ordine dei lavori, come gruppo, Presidente, noi non possiamo accettare che vengano interrotti i lavori per mancanza di copertura. Il Governo ha trovato 4 miliardi per i Montepaschi di Siena, 900 milioni per la Sicilia ed è inaccettabile che non vengano trovati per la questione i esodati. Per questo, Presidente, noi chiediamo e annunciamo che saremmo disponibili nel proseguo sia di questi lavori, ma soprattutto di quelli che ci vedono impegnati nella delega fiscale ad agevolare al massimo liter. Però chiediamo una garanzia da parte della maggioranza, da parte della Presidenza, ma soprattutto da parte del Governo, che se visto, devo dire, e lo dico con rammarico, irresponsabile nel trattare la questione esodati, chiediamo la garanzia che questa settimana, ovvero nella giornata di giovedì, vengano discusse le proposte di legge unificate, perché altrimenti nella prossima settimana ci sarà la questione della sessione di bilancio e quindi verrebbero bloccate tutte le proposte di legge onerose. Per questo chiediamo con chiarezza alla maggioranza, anche ai firmatari delle leggi, che prendano questo impegno, perché altrimenti non sarebbe spiegabile al Paese che l'altro ieri sono stati dati 900 milioni alla Sicilia e nulla ai nostri lavoratori. Grazie.